Lo scorso anno agli Stati Generali della Scuola Digitale con Labodif abbiamo parlato di un ingrediente misterioso che muove il mondo della scuola e anche quello dell'università ed è l'intelligenza nascosta. Quest'anno torniamo con un altro mai più senza che è la parola autorevole e la parola capace di suscitare la facoltà dell'attenzione. Ritorniamo un po' anche ai nostri ricordi di quando abbiamo appreso, quando abbiamo imparato da nostri insegnanti, i nostri insegnanti e anche come ci poniamo con quale presenza siamo in aula come insegnanti oggi perché molto spesso entriamo in aula e questa è una delle domande che ci poniamo nell'intervento di quest'anno, interveniamo in aula con magari una quantità di conoscenze molto grande e anche raccontata con la massima dovizia di particolari ma in realtà in quell'aula molto spesso accade che manchiamo noi ed è di questo che parleremo nella giornata di oggi e lo faremo pensando anche a quanto questo possa essere diverso per le ragazze, per i ragazzi e per noi donne anche nell'insegnamento, in particolare anche come scienziate e quale differenza di genere c'è anche in questa presenza.